Ragazzi, sempre quinto municipio, sempre via Erasmo Cattamelata, guardate che situazione, questa è una scuola, il Manzi, guardate che situazione, guardate, poi vabbè, passaggio qua, guardate che schifo, questa è la scuola Manzi, la vecchia Gabriele D'Annunzio, su via Erasmo Cattamelata, inizio del Pigneto, guardate qua il passaggio, guardate che situazione, guardate che schifo, guardate, è continuato proprio, qua inizia via del Pigneto, guardate, è una scuola come potete vedere, guardate, questa è la Roma targata Gualtieri, davanti a una scuola, guardate che situazione, come potete sentire gli studenti, ci sono dentro, guardate, voi qua sarete dei buonissimi propositi, complimenti ancora. 14 novembre, penestino via Erasmo Cattamelata, guardate che roba, tonnellate di monnezza, buttate così in aria, quinto municipio, complimenti qualti.